nostri ospiti per parlare con loro della difficile situazione che vive la Sicilia ex dati ISAT ma anche Svimez ma anche di prospettive di sviluppo. I nostri ospiti di oggi sono Lelio Cusimano, giornalista economico. Buongiorno, grazie di essere qui con noi stamattina. Il professor Antonino Laspina, docente di sociologia all'università di Palermo e consigliere dello Svimez. Lelio Cusimano, cominciamo con questi dati che parlano di un'ulteriore perdita di posti di lavoro per la Sicilia ma ci sono anche di una perdita di lavoro soprattutto per i più giovani costretti a lasciare l'isola. Ci sono piccoli spigagli ma ancora sono molto lievi. Io credo che per aiutare meglio chi ci segue a inquadrare i termini alla vicenda piuttosto che imbarcarci in lunga l'invenzione di numeri possiamo fornire un paio di cifre sui valori assoluti piuttosto che sulle percentuali. Anche quelle ovviamente poi hanno il loro rilevo e sono importanti. Noi abbiamo avversato come regione e come paese una lunga pausa economica, socio-economica, una crisi lunghissima che è partita alla fine del 2007 e che continua grossomodo a improvversare fino ad oggi. Prima della crisi la Sicilia aveva mediamente un milione e mezzo di occupati. Ricordiamoci che per allinearci al resto del paese avremmo dovuto averne due milioni. Quindi partiamo da una situazione di grande debacle. Oggi ne abbiamo poco più di un milione e tre. Quindi a conti fatti si possono essere riprese, miglioramenti eccetera. Mancano al conto finale almeno 200.000 posti di lavoro. Questa perdita gravissima concentrata in alcune aree in particolare, uno dei più colpiti sicuramente sono le edilizie, è un fenomeno che tuttavia mostra un piccolissimo segnale di inversione. È troppo presto per poter dire se stiamo girando pagina. Sicuramente una parte del nostro paese nel centro nord ha già girato pagina. È possibile che anche la Sicilia riesca sia pure con lentezza e ritardi apposticipando la ripresa a inserirsi in questo corso favorevole. Professore Raspina, a proposito della fuga dei cervelli, questo è un dato che costantemente accompagna la nostra isola? Forse oggi più che mai anche lo Svimez ha puntato molto su questo. Sì, in realtà il tema della fuga dei cervelli è un problema meridionale ma anche nazionale perché la fuga dei cervelli significa che persone portatori di una particolare qualificazione non trovano uno sbocco nel mercato del lavoro adeguato alla formazione che hanno ricevuto. E questo riguarda un po' tutta l'Italia perché tutta l'Italia ha una domanda di lavoro che è relativamente poco qualificata. Quindi questa tendenza la riscontriamo anche da aree più sviluppate come il centro nord verso paesi come l'Olanda, l'Inghilterra, la Germania e quindi non soltanto dal sud verso il nord ma da tutta l'Italia, sicuramente però dal sud verso il nord molto di più. Bisogna dire che c'è in questo momento, ce lo dicono questi recenti dati dell'Istat, una lievissima situazione di miglioramento. Nel senso che è sempre bene parlare delle cifre in assoluto, si vede che c'è un po' più di occupati, un po' più di disoccupati, il che può sembrare allarmante. Invece tutto sommato va bene, perché? Perché non vanno considerati solo gli occupati e disoccupati, vanno considerati anche gli inattivi, cioè la cosiddetta disoccupazione grigia, cioè gente che rinuncia a cercare lavoro e questi certe volte sono proprio i giovani che rispetto alle qualificazioni che hanno non sentono di trovare una contropartita di offerte. Quindi a che cosa si assiste secondo questi ultimissimi dati svimez? A un piccolo aumento dell'occupazione, a un piccolo aumento della disoccupazione, ma una diminuzione non grossissima degli inattivi. Quindi nel complesso il saldo tutto sommato va meglio e questo potrebbe succedere anche nel mezzogiorno, potrebbe a certe condizioni però. A proposito di queste condizioni, evidentemente urge attuare delle politiche di sviluppo. La recente approvazione del Jobs Act da parte del Parlamento potrebbe dare da questo punto di vista una scossa al nostro mercato del lavoro? Premesso che non si crea lavoro per legge, va comunque detto che cattive leggi comunque riescono a togliere lavoro. Questo sicuramente è un fatto acclarato. Io vorrei fare una brevissima previsazione perché spesso si parla di questi termini senza chiarezza di contenuti, non sarò troppo di da scalico. Quando si parla in materia che il pubblico interviene nel lavoro, sono due blocchi di interventi, politiche passive e politiche attive. Le politiche passive sono essenzialmente l'estribuzione di sussidi e aiuti finanziari. Le politiche attive sono tutte quelle iniziative, dalla formazione alla creazione di percorsi speciali, per favorire l'avvicinamento di chi non ha un lavoro verso il lavoro. Ecco, detto soltanto con il gusto della cronaca, senza nessun altro retropensiero, la nostra regione è l'ultima della classe nelle politiche attive e la prima nelle politiche passive. Il Job Act potrebbe darci una mano, questo sostanzialmente lo vedremo. Non mi infilo ovviamente nella teoria del licenziamento dell'articolo 18, però vorrei sottolineare che sono aspetti importanti che derivano dal fatto, al di là delle tutele crescenti, mi chiedo a ricordare il fatto che interi battuglie numerosissime, di persone che avevano per devono il lavoro, prima non erano tutelate, ora lo sono. Vedremo quello che succederà. Professor Raspi. Sì, è chiaro il Job Act è un provvedimento molto articolato, stanno uscendo i decreti attuativi, ci sono degli aspetti che riguardano a parte la regolazione del rapporto di lavoro, anche delle forme di tutela, non soltanto in termini di tutele crescenti rispetto alla stabilità, ma anche delle forme di nuovo welfare che un po' riguarderà soggetti che fino ad ora non erano protetti, c'è anche questa decontribuzione che pure può essere un importante incentivo almeno per i primi tre anni. E poi l'altra cosa comunque fondamentale è che per creare lavoro, oltre alla regolazione del mercato del lavoro, ci vogliono politiche di sviluppo, politiche industriali che attraggano investimenti, potenzino gli investimenti in loco perché sennò l'imprenditore che potrebbe astrettamente assumere non lo farà lo stesso perché non ha degli incentivi per farlo. Quindi è molto importante che si utilizzino bene i fondi comunitari e che magari i soggetti che fino ad ora li hanno usati male o cambiano il registro o magari vengono sostituiti da qualcun altro. Molto velocemente, allo stato attuale esiste quello che viene definito il volano di sviluppo in Sicilia che potrebbe intanto fare da treno considerato la crisi profonda dell'industria raccontata negli ultimi anni, il fallimento di tante altre politiche del lavoro? Più che un volano di sviluppo locale, al momento attuale, sarei propenso a credere, a dare maggiore fiducia a una serie di elementi di contorno che avranno pesanti ricadute favorevoli in Italia e nel mezzogiorno e ovviamente in Sicilia. Mi riferisco alla svalutazione del dollaro, dell'euro rispetto al dollaro, mi riferisco all'abbattimento del prezzo del petrolio, mi riferisco a quella manovra del titolo molto complicato, il quantitative easing, che sostanzialmente consente alla banca centrale europea di immettere 2 miliardi di euro al giorno per i prossimi 18 mesi, questo che dà liquidità e dovrebbe ogevolare il finanziamento delle imprese. Quindi diciamo lo sguardo è sempre molto ampio, adesso non si può più ragionare in termini meramente di territorialità, è questo la condizione? E questo è fondamentale, infatti queste tre condizioni sono tutte importanti, il rischio è che il mezzogiorno resti tagliato fuori, questo è il rischio, quindi chi governa il mezzogiorno e comunque anche i governanti nazionali che si preoccupano al mezzogiorno devono fare molta attenzione, perché è possibile e probabilmente avverrà che il Paese risenta positivamente di questi tre fattori, ma è importante che questo avvenga anche e soprattutto nel mezzogiorno. Chiudiamo con questa puntualizzazione ovviamente non indifferente, grazie ai nostri ospiti, grazie di essere stati qui con noi stamattina, noi proseguiamo per...